Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova reaction. È appena uscito il primo teaser trailer di Mufasa, The Lion King, film che arriverà quest'anno il 20 dicembre in America, non si sa quando arriverà in Italia, spero comunque quest'anno. E dico speriamo perché al contrario di tante altre persone, io nonostante sia un grandissimo fan del Re Leone originale del 94 e il mio classico preferito assieme al Gobbo di Notre Dame e qualche altro, il remake live action lo ha anche apprezzato e sono davvero curioso di scoprire cosa racconteranno in questo spin-off prequel di quel film, perché ovviamente si può capire anche dal titolo del film, non è il remake del Re Leone 2 Simba Sprite, è proprio un altro film, quindi reinventeranno, penso, la storia di Mufasa da piccolo. Il poster che è stato rilasciato e che state vedendo in questo momento mi piace anche e quindi direi di iniziare vedendo questo official teaser trailer. Non è ancora uscito in italiano nel momento in cui sto registrando, quindi lo vedremo in originale. Mi sa che qui muterò perché altrimenti ho problemi con il copyright. No, forse posso fare... Ma intanto perché è tutto ghiacciato? La storia ha inizio ben oltre le montagne e le ombre. Dall'altra parte della luce. The Dark Side. Le immagini sono sempre pazzesche comunque, potete dire quello che volete ma... Un leone che avrebbe cambiato la nostra vita per sempre. È sempre un documentario, eh. Però... È di nuovo la scena di Saroprestur, eh. La terra tremerà. Un giovane Rafiki. Il destino... Ti attende. Anche lui vede lo spirito di suo padre, penso. Perché Timon e Pumba? Comunque ho sempre i brividi con le canzoni del Re Leone, qualunque esse siano. Original Song. Lin-Manuel Miranda, vabbè. Abbonato a Disney ormai. Che dire, ragazzi. Non è che abbiano fatto vedere chissà quanto. Alla fine hanno solo fatto vedere che... L'hanno grosso, con le solite immagini anche simili a quelle del primo film. La grafica è pazzesca, sembra letteralmente un documentario. Difetto, secondo alcuni del primo film. Per me alla fine potrebbe anche starci. Speriamo esca a dicembre anche in Italia. Il primo film, se non sbaglio, è arrivato a settembre, quando in America era già arrivato in estate. Comunque è passato un po' di tempo tra le due uscite, non ricordo adesso esattamente quanto. So solo dirvi che, ripeto, mi vengono i brividi con le diverse canzoni, anche se remake del film originale. E niente, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate voi con un commento qui sotto, perché il video di oggi finisce qui. Vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social, Instagram, TikTok, Twitter, Letterboxd. E c'è anche il link di Pampling, il sito di t-shirt e articoli nerd, dove trovate tantissimi design per t-shirt, poster, calze, tazze, zaini, chi più ne ha più ne metta. C'è davvero tantissima roba. E con il codice ILPENSIERO4 avrete la possibilità di scegliere un paio di calze, inserirle nel carrello, e queste calze vi costeranno 0 euro, perché infatti sarà un regalo del sito e del mio codice. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao.